Ciao da Simona e benvenuti al TG di Mondiali.it. A Wimbledon nel 2010 è stato disputato il match più lungo della storia del tennis mondiale. I due sfidanti, Maut e Isner, si sono battuti per oltre 11 ore di gioco, quasi ininterrottamente. Il punteggio finale di questa storica partita è stata di 70 a 68 in favore di Isner al tie break. Pensate che il record precedente è stato battuto di quasi 5 ore. Il racconto del match è nella sezione curiosità sportive. E se Isner e Maut detengono il record del match più lungo di tennis, il cestista Danilo Gallinari invece è il recordman tra gli sportivi italiani più pagati al mondo. Trasferitosi dai Denver Nuggets ai Los Angeles Clipper, il gallo nazionale percepirà la cifra record di 65 milioni di euro in tre anni. Niente male per uno che è riuscito a scalzare in classifica, perfino Graziano Pellè, attaccante azzurro volato in Cina a suon di milioni. Leggete l'articolo nella rubrica Italias. Noi ci vediamo la settimana prossima con il Tg di mondiali.it, dove lo sport è a portata di click. Un bacio dalla vostra Simona.